Prestate attenzione quando siete alla guida e l'appello forte lanciato questa mattina da Gianluca Memoli, il consigliere comunale di Salerno, privato vent'anni fa della sua mobilità e dell'uso delle gambe, ad appena 21 anni, in seguito ad un incidente stradale causato da un pirata della strada, questa mattina a Palazzo di Città, dove alla presenza di tantissimi studenti, si è svolta la ventiseisima tappa del road show, si isaggio, guida sicuro. Sì, ahimè vent'anni fa ho conosciuto la disabilità e oggi mi trovo al di là del ruolo istituzionale ad avere una grande responsabilità quella di parlare giovanissimi, di avere rispetto per se stessi e per gli altri, che sia un ciclomotore, che sia una bicicletta, che sia un'automobile, sull'uso consapevole del bicchiere di vino, il fatto di non fumare, di non mettersi sotto effetti da sostanza stupefacente alla guida appunto di un mezzo. Ed è quella, la prova tangibile è già il fatto di vedere una sedia visivamente, di sentire le parole di una persona che è impattante, il fatto che non sia uno spot, ma che sia vita vissuta. E quindi ormai io sono circa vent'anni che cerco di portare la mia testimonianza proprio per prevenire di fare quella formazione vera affinché diciamo sia le morti sulla strada che i danni permanenti che può causare la strada venga emarginata perché è una vera e propria emoragia. Il progetto SISaggio Guida Sicuro, promosso dalla Regione Campania ed attuato dall'Anci Campania in collaborazione con l'Associazione Meridiani, con l'obiettivo di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, ha visto la presenza delle autorità e delle forze dell'ordine a confronto con i giovani sollecitati a mantenere comportamenti responsabili quando sono alla guida. La strada del rispetto ti porta ovunque. Il titolo sul quale si sono confrontati con gli alunni, con i relatori dell'incontro che hanno focalizzato l'attenzione sull'incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza. Inevitabile il riferimento anche all'incidente stradale mortale a Molina di Vietri sul mare dove sabato ha perso la vita il giovane 32enne Riccardo Milone che era in sella alla sua motocicletta. Paradossalmente io proprio sabato mi trovavo come relatore ad un convegno a Vietri all'oratorio di Vietri organizzato da un'associazione, da una madre Francesca che ha perso un figlio sulla strada e proprio in quel giorno un altro ragazzo, un'altra giovane vita è stata stroncata. Sì, come diceva lei, la strada è pericolosa, il pericolo è sempre dietro l'angolo quindi bisogna rispettare le norme del codice della strada, le norme di comportamento e bisogna sempre avere un'attenzione, bisogna avere un comportamento diligente, prudente e anche se devo dire che a Salerno il trend degli incidenti non è in aumento così come in altre province. Allora, il progetto Sissaggio Guida Sicuro è proprio un progetto rivolto ai ragazzi, ai ragazzi delle scuole di primo grado e di secondo grado, dall'anno scorso sono coinvolti anche i ragazzi dell'università, per renderli parte integrante del progetto abbiamo questo concorso di idee che si chiama Invento una soluzione per la sicurezza stradale. Quest'anno ci sono ben 50 premi, quindi sono coinvolti tutti i ragazzi, alla fine del mese, del mese di aprile, si riunirà una commissione di esperti di sicurezza stradale insieme alle forze dell'ordine per scegliere i progetti migliori, ci sarà la proclamazione finale dove verranno consegnati i premi al piazza del municipio a Napoli e quindi che vinca il migliore. Sì, noi dobbiamo insistere per questa campagna di prevenzione, di formazione e informazione è rivolta soprattutto alla fascia che ne è più colpita, che è quella dei giovani dei 16 ai 30 anni circa, perché c'è da fare un lavoro di grande e di intensa prevenzione. La Regione Campania ha istituito ormai in via stabile questa formazione, toccando scuole, coinvolgendo le forze dell'ordine. L'anno scorso oltre 10.000 ragazzi sono confluiti poi in questa manifestazione, in questo concorso di idee alla mostra di oltremare, quest'anno ci sarà un'iniziativa analoga, speriamo anche più ricca, se serve a salvare anche una sola vita umana ne sarà valsa la pena, noi speriamo invece possa servire molto di più. In piazza Mendola, contestualmente, è un'esposizione di mezzi altamente tecnologici dell'esercito italiano, dell'ANAS, della Polizia Locale di Salerno, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, del Corpo Nazionale, presenti anche i volontari del Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza, Universo Humanitas, che hanno illustrato anche le manovre di primo soccorso con il compito di sensibilizzare al reclutamento. Noi siamo vicini a questo progetto dal primo giorno, perché ci vede protagonisti per il fatto che noi arriviamo dopo, quando purtroppo l'evento è già successo. E capirete che per noi è molto brutto dover assistere a tutta una serie di brutte cose, vedere questi giovani che perdono la vita, e cerchiamo, quando facciamo prevenzione, di spiegargli che non bisogna bere, che non bisogna prendere altri tipi di sostanze superfacenti, voglio dire, che portano poi a non essere lucidi nella guida. Ci crediamo, cerchiamo di fare il meglio, ma come vedete a Molina di Vietre c'è stato l'ennesimo molto, e io in 42 anni sapessi posso dire che sono state centinaia e molte a Molina di Vietre e non trovano una soluzione per quel posto.